Don Rafael Montero Buonasera Sono Don Alejandro del Castillo e Castillo Saluto ufficiale della Corte di Spagna, non lo vedevo da anno Mio padre era un uomo molto severo, in fatto di etichetta E chi è vostro padre? Don Bartolo del Castillo Ne ho sentito parlare, ma non ho mai avuto il piacere di incontrarlo Sono arrivato la settimana scorsa dalla Spagna, passando per Parigi, Lisbona e San Francisco Devo visitare le tenute della mia famiglia La regina Isabella di Spagna è stata molto generosa con noi Davvero sorprendente Cosa mi conduce alla mia parte? Quando ho saputo che eravate tornato in California ho ritenuto di dovervi presentare La sua altezza reale ha una grande considerazione per voi Davvero? Avevo avuto l'impressione di non vedere più dei favori della Corte Da che la California è stata acceduta al massimo Solo in alcuni restretti circoli Suami sta sa bene che in quegli eventi sfortunati non sono certo da imputare a voi Mi ha anche detto che questa provincia è ancora una terra ricca di occasioni per un uomo che abbia una visione Voi avete una visione? Io sono un uomo alla ricerca di una visione Ma ho scelto un momento poco opportuno Vedo che ho interrotto una festa Posso tornare? Altra volta Oh no Sarei onorotissimo se vi uniste a noi L'onore è tutto mio Credeteli signore Vi prego Permettetemi di presentarvi mia figlia Elena Ma certo Schalbi Devo di non aver portato alcun dono per la mia ospite Ma Aspettate un momento Grazie È un piacere Bernardo Non stare lì in palazzo Signorita Caballero Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.